Ciao a tutti e ben ritrovati in nostra compagnia, oggi telecamere puntate direttamente sulla concessionaria viva per tutti gli appassionati dei brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth, concessionaria ufficiale a Torino, in corso Rosselli 181, due passi dal Parco Ruffini, dove ritrovo con grande piacere il direttore commerciale Enzo Lagatta, ciao. Grazie Palma, un bel ritrovato a tutti voi amici di Auto Occasioni. Oggi, mese di marzo, mese importante, Salone di Ginevra, avete visto quante sono le offerte, quante sono le opportunità che verranno immesse sul mercato quest'anno, 2016, un anno per noi molto importante. Direi Palma di partire subito con alcune offerte qui dalla concessionaria viva, con Alfa Romeo Mito a partire da 9.950 euro e Alfa Romeo Giulietta a partire da 15.200 euro. Affrettatevi, numerosi, e naturalmente aspettando Giulia. Naturalmente aspettando Giulia e non solo, se ne vedono sempre delle belle presso la concessionaria viva, come dicevo, concessionaria ufficiale, questo vuol dire vantaggi esclusivi, vuol dire approfittare delle promozioni esclusive viva, non solo per quanto riguarda la vendita, ma anche per quanto riguarda i pagamenti, per esempio il prodotto Epidrive. Sì, fantastico prodotto Epidrive che vi dà la possibilità di acquistare qualsiasi automobile a costo zero al quinto anno e le manutenzioni incluse nel piano di finanziamento. Naturalmente venite qui presso la concessionaria a chiedere informazioni direttamente al personale, ha detto. Promozioni esclusive non solo in casa Alfa Romeo, ma anche in Fiat, Lancia e Abarth, seguiteci. Grande successo, ottimo il prezzo per la straordinaria nuova Tipo. Fiat tipo a partire da 12.500 euro, da oggi è ordinabile anche il 1.3 Multijet a partire da 15.500 euro, quindi diesel da 20 al litro e non solo, la possibilità tra qualche tempo di ordinarla anche station wagon o 5 porte. Attenzione, sempre in casa Fiat continua la strepitosa offerta sulla nuova Punto 5 porte. Fiat Punto 5 porte con climatizzatore e radio a soli 7.900 euro. Sempre da viva, sempre in casa Fiat, finalmente una vettura premium ad un prezzo straordinario. Sì, Fiat 500X a partire da 15.500 euro. E la volta della 500L è sempre la nostra icona italiana ad un prezzo straordinario. Sì, pensate, soli 12.900 euro e portate a casa una 500L in pronta consegna. Passiamo ora in casa Lancia con altre offerte straordinarie, la nuova Y. Sì, la nuova Y solo per i clienti di auto occasioni a partire da 8.900 euro. Si parla di sportività, si parla di Abarth, altra offerta viva. Sì, a soli 16.850 euro la possibilità di portare a casa una Fiat 500 Abarth. Da non dimenticare tutta la gamma in pronta consegna. Adesso andiamo a vedere insieme quali sono le opportunità dell'usato che abbiamo riservato per voi. Usato, selezionato, che subisce 120 controlli prima della consegna. Tenete conto che la nostra concessionaria è all'officina più grande di Torino. 120 sono i controlli, marchio non sinistrato e chilometraggio certificato. Partiamo subito con un'automobile ecologica. Fiat Panda 1.2 Climbing Natural Power, quindi metano, poco più di 50.000 chilometri, prezzo viva 6.390 euro. Fiat 500 L Living 1.6 105 cavalli, tantissimi colori a disposizione. Tantissime sono le vetture disponibili qui da provare in concessionaria viva a partire da 13.900 euro. Fiat 500 L in allestimento trekking, la possibilità di averla 1.4 benzina, 1.6 diesel, 1.3 multijet, a partire da 14.900 euro. Ford C-Max 1.6 115 cavalli, matricolata a gennaio del 2015, quindi ancora in garanzia ufficiale, pochissimi chilometri, a soli 17.900 euro. Volvo V40, immatricolata nel 2013, pochissimi chilometri, turbodiesel, qui presso la concessionaria viva, a soli 19.900 euro. Audi A3 1.9 turbodiesel, con cambio automatico, a soli 9.900 euro. Fiat Punto 1.2, 5 porte allestimento dynamic, pochissimi chilometri, per chi volesse spendere poco 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 a soli 5.400 euro. Vorrei concludere questa breve carrellata di automobili usate con Mirafiori Outlet. Bene sì, qui in Corso Rosselli 181 potete trovare anche vetture del Mirafiori Outlet, solo qui presso la concessionaria viva. Pochissimi chilometri, tantissimi sono gli optional. Automobili con cambio automatico, automobili con motori particolari tipo il Twin Air, Giulietta di un anno con pochissimi chilometri. Bene, se non avete visto ciò che stavate cercando, venite a trovarci qui in Corso Rosselli 181. Sicuramente troveremo l'auto che fa per voi. Molto bene amici, avrete capito che la concessionaria ufficiale è viva, è ormai un'istituzione, un vero e proprio punto di riferimento a Torino in Corso Rosselli 181 per i brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth con tantissime vantaggi e promozioni. Sì, è detto bene Palma, Corso Rosselli 181 ha un passo dal parco Ruffini, parcheggio interno per i clienti, quindi prendete carta e penna, assegnatevi l'indirizzo e non dimenticate che qui da noi avrete la possibilità di acquistare l'automobile con sei mesi di RC inclusa nel prezzo, otto anni di garanzia inclusa nel prezzo. Il prodotto giusto al momento giusto, un ringraziamento particolare a Enzo Lagatta, a tutto lo staff di Viva e sicuramente a voi che ci seguite sempre con attenzione e se avete piacere continuate a seguire Auto Occasioni anche sul sito motori.tv dove potrete consultare e scaricare gratuitamente la nostra rivista online. Alla prossima!